Benvenuti amiche e amici del canale del Darione, eccoci qua per la preview della GV 413 di Sorare. In questo caso vi farò vedere una serie di calciatori che provengono dalla K-League e dalla Scottish. Non ci sarà la G-League perché riposa. Se vi sono piaciuti i miei video vi ricordo di fare il clin 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 sulla campanella così da essere avvertiti dei prossimi video che usciranno sul canale. A questo vi dico insomma di mettere mi piace sul finale per vedere se vi è piaciuto. E vi ricordo anche che trovate il mio link referral se non vi siete ancora iscritti a Sorare. Sorare è un gioco favoloso, troverete i video di spiegazione di come funziona sempre qui sul mio canale. E se userete il mio referral link il bonus che vi darà è quello di poter ottenere una carta limited gratuita dopo averne comprate 5 in asta. Ma iniziamo dalla K-1. Forza, veloci! Iniziamo come ho detto con la K-League. Andiamo a vedere una brevissima preview delle partite. Qui le vedete tutte, sono elencate. Iniziamo con la prima. Daijeon, Ana Citizen FC vs Jeju United. Io do un 60% di vittoria per il Daijeon con un 40% per il Jeju. Perché il Daijeon, Ana Citizen FC è rimasto ufficialmente fuori dalla finale. Anche se insomma, voglio dire, un risultato che può avere alcune percussioni emotive e potrà avere probabilmente come risultato in campo un po' di turnover. Il Jeju però ha cambiato l'allenatore ma non ha invertito il trend negativo, questo cambio di allenatore. Perché il suo NFC è a soli 5 punti ci sarà lo scontro diretto nella Final B. Quindi insomma, la situazione non è rosa per il Jeju. Questa partita diventa determinante, insomma, per mantenere direttamente la categoria. Però io vedo, come ho detto, leggermente favorito il Daijeon. Però dall'altra parte c'è il ritorno di Yuri nel Jeju che potrebbe insomma rendere la sfida totalmente equilibrata. Andiamo invece a Ulsan Hyundai, Incheon United. Do il 55% di vittoria all'Ulsan e il 45% all'Incheon. Quindi partita molto molto equilibrata. Anche perché l'Ulsan Hyundai arriva a questo match in crisi di gioco. Anche se i risultati alla fine poi sono comunque discreti. Ombi Umbo si è trasformato diciamo nel sosia coreano di Allegri. Ha rinunciato quasi completamente ad attaccare. Per me risulta inspiegabile la scelta di rinunciare ad Adam e Jumin Kew dall'inizio del match di ACL. Poi perso contro il frontale. Mi viene da pensare che l'attaccante coreano a questo punto possa partire titolare. Visto che ha giocato due minuti insomma nel match contro il frontale. Ma who knows. L'Incheon invece sta volando sul dali dell'entusiasmo dopo due vittorie in ACL. No, ACL in cui L'Incheon è al debutto assoluto. La difesa dovrebbe tornare quella titolare rispetto a quella un po' fantasiosa dell'ACL. Così come a centrocampo dovremmo rivedere Kim Dong Yeo che li mi in giù. Shin Jin Noh ancora è in dubbio per la botta presa alla caviglia in allenamento la settimana scorsa. Vediamo se da qui a domani mattina esce qualche news e ovviamente controllate su Pelle Sharper che terrò aggiornate le prediction. Ci potrebbe essere una sorpresa in attacco con Chong Sung Hoon che potrebbe sostituire Mugosa. Perché magari dopo tutta questa fila di partite che ha fatto potrebbe riposare. Anche perché dovrebbe partire poi per il Montenegro per giocare con la nazionale. Quindi vediamo insomma potrebbe giocare anche Kimbo Sub davanti. Su Gersu ho dei grandi dubbi perché insomma sta giocando una partita ogni tre da titolare. Però la domanda è si può rinunciare a Gersu contro l'Ulsan che è messo così male diciamo così in ripartenza. Diamo velocissimamente la terza partita. FC Sol contro John Book Yunda Motors. Qui do un 60-40% per il Sol. Anche se la partita la ritengo decisamente molto equilibrata. Va detto che l'FC Sol ha due risultati su tre per essere sicuro di entrare nella Final A. Però se vuole provare a insediare il terzo porso del Guangzhou FC deve vincere per forza. Ricordiamo che non ci sarà Kim Shin Jin nel Sol perché è squalificato. Quindi Liuchenko dovrebbe essere titolare. E onestamente dietro l'angolo ci potrebbe essere il classico gol dell'ex. Gli 11 titolari dovrebbero rimanere appunto quelli visti nell'ultimo match. con probabilmente a un Seongyu che dovrebbe sostituire l'incerto Li Sungbo. Non si sa ancora se giocherà o meno. Difficile che il mister possa rinunciare a Ilyuchenko, Oscar o Palocevic di rientro dopo la giornata d'esclusione. Insomma la vedo molto molto difficile. Il John Book invece è in emergenza totale. In ACL ha perso una partita incredibile a Bangkok contro una squadra che onestamente non è del livello del John Book. E quindi i titolari dovrebbero essere più o meno quelli. Probabilmente ci potrebbe essere un Rijemun che viene sostituito per Meon Sangung. Però per il resto credo che più o meno siamo lì con qualche piccolo aggiustamento. D'altronde tutta la mancanza di questi titolari che hanno vinto ieri 2-1 contro l'Uzbekistan e che quindi andranno a giocarsi la finale degli Asian Games contro il Giappone domenica. Poi si interromperà. Ma insomma il John Book si gioca alla Final E. Sarebbe la prima volta nella storia che non vi partecipa. Partita successiva è Degu FC contro Suon FC. Sì qui secondo me la bilancia prende chiaramente decisamente a favore del Degu 75% 25%. Il Degu all'occasione ovviamente per avere la qualificazione matematica alla Final E. Proverà addirittura ad avvicinare Guanju che non ha un match facilissimo contro il Gangwon FC ma ne parleremo. Quello che va detto è che l'assenza di Cesigna non ha pesato in alcun modo sul destino degli Azzurri. No questo è un buon segnale secondo me in vista della prossima stagione di quello che può essere il futuro della squadra. Barcelos in particolare è sempre più l'anima offensiva del Degu e si sta trovando benissimo con Gojeon e Edgar Silva. Insomma stanno guidando il Degu a un risultato che a inizio stagione non era affatto certo. Il Suon invece FC lo sappiamo non amo moltissimo l'allenatore. Se mi seguite da tempo lo sapete deve vincere. Ma insomma prende gol ogni tiro. Mi sembra siano 63 i gol subiti dal Suon. Lee Young è scomparso. Gomez è più squalificato che in campo. Gli accento della difesa. La domanda è il trio delle meraviglie può bastare a salvarsi dalle sabbie mobili del secondo play-out? Non lo so. Sicuramente quello che conforta i rosso-blu è il fatto che il Degu stia peggio di loro e potrebbe andare giù a picca. A quel punto il Suon potrebbe scavalcarlo. Insomma situazione caldissima sul fondo della classifica che si risolverà soltanto nelle ultime giornate della Final B. Andiamo poi a Guangzhou-Gangwon FC. Qui io darei leggermente favorito il Guangzhou 55-45 perché il Guangzhou insomma arriva in una forma pazzesca a questa ultima partita di regular season. non è la squadra o obiettivamente più divertente da vedere e può appunto raggiungere un risultato storico perché può essere la prima squadra a qualificarsi in Champions League dal campionato coreano da neopromossa. Ovviamente ci sono altre sei partite compresa questa perché questo succeda. E dentro di Timoleskett al centro della difesa come ha detto l'allenatore è previsto per dopo la sosta. Ma ci potrebbero essere delle sorprese. Però insomma Calver toglierlo ora che ha trovato questa continuità di rendimento ad alto livello mi sembrerebbe un peccato. Insomma sarà complesso per l'allenatore decidere chi mettere in panchina che insomma non è più una riserva semplice Calver. Comunque la squadra vuole regalare questo sogno anche a Kim Khaon Min che sappiamo purtroppo essere stato colpito da una terribile tragedia. E quindi la sua pausa del calcio potrebbe durare molto a lungo. Gli facciamo un saluto ovviamente. Il Gangwon FC è probabilmente però la peggior squadra da incontrare in questo momento perché viene da tre risultati utili di fila e ha il vento in poppa. Kim De Won è tornato quello che conoscevamo io lo adoro l'ho sempre detto perché poi ci sono pochi calciatori con il suo talento e la sua capacità di trascinare i compagni in K1. Iago e Gabriel dovrebbero alternarsi davanti se Tucci e Gallego partiranno titolari. Ultima partita di questo turno quella diciamo più disequilibrata in assoluto perché è quella che vede i suoness Blue Wings ospitare i Pong Steeders. Quindi io qui darei un 10% contro un 90% a favore degli Steeders. La partita appunto è squilibratissima. I Blue Wings perdono da sei partite di fila e non vincono da ben dieci. Mi viene difficile pensare che i Blue Wings possono impensilire i rossoneri che invece hanno veramente stanno facendo qualcosa di impensabile in sua stagione. Stanno andando fortissimo molto bene anche in Champions League e continueranno a tenere aperta la lotta per il titolo finché la matematica non li condannerà. Il nuovo allenatore dei Blue Wings penso che riproporrà la formazione di domenica scorsa anche se c'è qualche possibilità di rivedere Max e la Costia almeno in panchina. Steeders forse faranno un turnover controllato. Penso che Kimson Day ritornerà a titolare. Zeca dovrebbe partire di nuovo ma potrebbe essere insediato dall'Iogè. Per il resto insomma forse potrebbe esserci un Grant a riposo però insomma più o meno siamo lì. Saranno piccoli accorgimenti. Detto questo andiamoci a vedere instant velocissimamente quali sono invece i giocatori che vi suggerisco in Cupped. Iniziamo dai portieri ed iniziamo da Choice All One portiere dell'FC Sol. Il sistema di pick di Sorare Data che io vi consiglio di andare a guardare ci dice che lui è la scelta da fare in questo fine settimana. Sia per la Cup 2.40 che per la Special Week K1 ma questo farò un momento a parte all'interno del video. Il dubbio poi c'è sul fatto che Back John Bam possa fare capoline e tornare a essere di nuovo titolare ma insomma credo che da qui alla fine della stagione dovrebbe essere Social One con il nuovo allenatore a giocare. Andiamoci a vedere i prezzi, li vediamo, sono qua 5.48 ultima vendita in limited mentre in rara siamo a 124 euro. Per quanto riguarda gli Scors abbiamo un L5 a 52 e un L15 a 49, lo vedete insomma portiere tranquillissimo però appunto la picca lo dà molto alto con un 69 addirittura contro il John Book. Secondo portiere è un portiere che chi mi segue conosce bene, è uno dei miei portieri. Io insomma lo amo tra l'altro perché poi gioca negli Steelers, ultima vendita a 22,62 euro in limited mentre per quanto riguarda la rara ultima vendita a 303 euro. L5 a 55 quindi vuol dire che è in clamorosa risalita nelle prestazioni e lo vedete, si può vedere benissimo grazie anche veramente alla squadra che sta andando molto forte. L15-48 quindi fitta benissimo così come fittava benissimo Cho-Shul-Woon per quanto riguarda la Cuppe. Ed è un portiere che non tradisce mai, insomma a volte sì, però giocano contro i Blue Wings. Onestamente se non ce l'avete un pensierino potreste anche farcelo a prendervene una copia. Anche perché vi ricordo giocherà almeno fino a luglio dell'anno prossimo da titolare perché Kang Yeong-Mu sarà ancora col Gim-Chon a fare il servizio militare. Andiamo a vedere invece i difensori, passiamo al Daegu, ce ne abbiamo ben due del Daegu, il primo è Yang Sung-Wong, miglior difensore del prossimo turno di K1 per quanto riguarda la pick. È questo esterno destro che in questo momento sta sostituendo il titolare Wan-Jewon, quindi quando finiranno con domenica gli Asian Games state attenti perché il titolare tornerà all'altro. Però, come dire, questa è una proposta one shot, lo comprate, ve lo giocate questo fine settimana e poi ve lo tenete lì. Però insomma il rischio è un po' il mestiere di ogni manager di Solare, visti anche i prezzi che sono molto bassi perché è a 0,62 il limited ed è a 6,27 euro in raro, onestamente ci si può anche provare a fare questa scelta. Detto ciò, andiamo al successivo difensore che è Kim Jin-Yoo, che invece è un difensore solido, valgono secondo me anche gli altri due titolari, si possono essere entrambi presi, Hong-Jong-Wong e Jo Jin-Woo, tutte e tre centrali secondo me vanno molto bene, anche perché appunto giocano contro il Su-Hon, quindi insomma sembra una dischietta picca, un L5 a 47, un L15 a 45, per quanto riguarda il prezzo siamo sugli 0,31 la limited, 0,31 euro e sugli 11,77 euro la rara, insomma, se non è tirato dietro poco ci siamo. Per quanto riguarda la special weekly, eccoci qua, vi ricordo, vado un attimo in solitario, questa settimana c'è la special weekly di K1, ritorna, c'è già stata insomma qualche tempo fa, non si vincono però premi, non si vincono art, si vincono solo maglie firmate, quindi giocateci solo se vi interessa quella cosa lì e siete veramente appassionati, altrimenti non è consigliabile farla. che è la pick numero uno che fa sulla redata, e anche per me in effetti è una grande pick, ed è quella di Han Yong-Gyu. Han Yong-Gyu che è titolarissimo e capitano del Guangzhou FC, la squadra grandissima, rivelazione di cui vi ho già parlato più volte, secondo me può andare bene sia in limited che in scarcity, quindi sia raro che in limited. stanno dominando il campionato, lui ha giocato benissimo, lo vedete alle 5, 65 nell'ultime 5 partite, con una alle 15 comunque di 56, è un po' in hype, perché probabilmente insomma i manager si sono accorti che sta andando molto bene, può fare bene anche se prende gol. Questo lo andiamo a vedere, non l'abbiamo fatto con tutti, ma questo vedete, grandi voti, anche qui quando ha perso ha fatto comunque 59. Per quanto riguarda i prezzi andiamola a vedere, eccola qua, 2,96 l'ultima vendita, mentre per quanto riguarda la rara l'ultima vendita è a 20,25€. Veramente, veramente una grande presa, ma andiamo a vedere velocissimamente anche i centrocampisti. Per quanto riguarda il centrocampo, torniamo a Degu, e stavolta la scelta cade su Gojeon, che nell'ultimo turno ha fatto benissimo, quindi potrebbe essere leggermente in hype. Lui però è un acquisto che vi portate dietro anche nel 2024, perché sarà titolare anche nel 2024. Vedete un L5 in grandissima salita, 48, un L15-38 che vi permette di inserirlo sostanzialmente ovunque. Potete inserire anche qualche super giocatore insieme a lui. Andiamo a vedere i prezzi, il limited sta a 1,40€, mentre il rara ultima asta a 16,89€. Per quanto riguarda, velocissimamente vediamo i numeri, non ha fatto benissimo all'ultimo 81, e soprattutto gioca, come già vi ho detto, con il Suon, quindi Suon che ha la peggior difesa del campionato. Altro calciatore che vi suggerisco invece in questo caso è del Degion, ed è Lee Yun-sik. Finalmente, nelle rotazioni un po' matte che fa l'allenatore del Degion, sembra aver trovato la sua collocazione a destra, difesa al centrocampo è abbastanza indifferente. Gioca la prossima contro il Jeju, squadra che come ho detto sta colando a picco. I prezzi, le L15 sono super competitivi perché è L5-43, L15-38, quindi anche questo fitta benissimo con altri super giocatori. 0,63€ il limited, mentre in rara costa 5,96€. Veramente ve lo tirano, ve lo tirano dietro. Ultimissima invece pic che vi propongo è quella di Oberdan, perché? Perché stiamo parlando di Special Weekly, ovviamente, questa non è Cupped. Special Weekly, ecco qua il buon Oberdan. Che dire di Oberdan, tredicesimo centrocampista del gioco, 69 di L5-69 di L15. Il prezzo ovviamente non è da regalo, lo vedete, ultima vendita a 24,60€ il limited, mentre la rara, ultima vendita, tra l'altro acquistato da pochissimo, a 171€. Però vi mettete in casa un centrocampista che vi può far comodo anche l'anno prossimo. Passiamo agli attaccanti ed iniziamo da uno di quei cacciatori appunto che io adoro, ne ho parlato anche nella preview, ve l'avevo proposto anche la settimana scorsa. Va bene anche se ha un L15 di 54, L5 favoloso di 62, perché può fittare con un paio appunto dei Daegu che vi ho suggerito precedentemente. Ha fatto fuoco e fiamme nelle ultime tre giornate e sta portando per niente il Gangwon e sono i litri più sicuri da solo. Io mi affiderei sempre al suo talento per la Cuppe, lo dice anche la ID di Sorare Data, insomma, credo che non sia affatto sbagliato, lo vedete, questi sono i suoi voti nelle ultime tre partite. Il prezzo, vi ricordo, della carta forward dovete cercare, è 4,08€, mentre per quanto riguarda la rara, ultima vendita, 47€ e 82 centesimi. Prossima scelta è Jazira Zani, l'attaccante che gioca in realtà da esterno a centrocampo nel Guangzhou FC, lo vedete L5-50, L15-49, quindi perfetto direi. Ha fatto una serie di partite non proprio al suo livello, quantomeno a livelli che ci aveva mostrato, quindi questa cosa dovrebbe farvi rizzare le orecchie e dire qua, questo non può andare avanti in questo modo a lungo e quindi probabilmente comincerà di nuovo a fare decisive. Stazione di alti e bassi per lui, penso, è una situazione, diciamo, secondo me positiva anche per il 2024, perché se è ambientato può giocare, insomma, molto bene, l'abbiamo visto, gioca contro il Gangwon, che comunque qualche gol può concederlo. Prezzo, lo vedete, a 4,84€ in limited e a ultima vendita 48,62€ in raro, secondo me può essere un'ottima pick. Per quanto riguarda l'attacco vi consiglio anche un'altra pick, secondo me molto molto interessante perché giocano contro i Blue Wings, sto parlando di uno degli attaccanti degli Steelers che è Kimson De, è entrato tra l'altro soltanto all'ultimo in ACL e quindi fornendo anche un assist però, ricordiamocelo, quindi probabilmente sarà titolare questo fine settimana, insomma, secondo me veramente a questo prezzo, lo vedete a 2,65€ in limited e a 34,64€ in raro, secondo me, insomma, questo è un'ottima pick. Ovviamente non può mancare la pick per la Special Weekly ed è ovviamente zeca. C'è un rischio, che è il rischio che faccia un po' di turnazione questo fine settimana, ma lo vedete, è l5,61€, l15,56€, viene veramente da partite strepitose, qui lo potete prendere a 17,90€, mentre in limited ovviamente, mentre in rara lo potete prendere, o meglio, l'ultima vendita è a 156€. A questo punto non ci resta che passare alla Scottish, abbiamo finito con la Key League, ma se avete qualche dubbio o delucidazione sul campionato coreano, scrivetelo qui sotto. Andiamo, Scottish, here we go! Iniziamo quindi il nostro viaggio in Scottish con una brevissima e sintetica preview delle partite della prossima giornata della Scottish Premiership. Iniziamo con Dundee-Ross County, Dundee sta andando molto bene in casa, favorito quindi sul Ross County, che fuori casa invece non sta performando come si dovrebbe. Data la natura delle due squadre, la partita dovrebbe essere comunque molto combattuta e anche divertente. Darei 60% per il Dundee, 40% per i Ross County. Arts-Ibernians, derby di Edimburgo, molto sentita questa partita in città, anche se meno pompata mediaticamente dell'Old Firm di Glasgow. Che si può dire? Che gli Ibernians sono in grande ripresa, gli Arts però hanno vinto l'ultima partita. Gli Ips non hanno vinto perché Trevor Carson, il portiere Dundee, ha parato anche le mosche. Sono leggermente favoriti gli Arts perché giocano in casa, quindi direi 55-45%. Passiamo al Livingston Motherwell. Livingston sta conquistando punti inaspettati, ma il Motherwell è una squadra quadrata, solida, che propone un bel calcio, io lo vedo favorita per il 60%, 40% al Livingston. Partita invece un po' a senso unico dovrebbe essere quella fra Celtic e Kilmarnock, col Celtic che dovrebbe vincere, ma insomma io darei ancora una piccola percentuale di successo al Kilmarnock perché i ragazzi guidati da McKinnis hanno battuto proprio il Celts nella Coppa di Rega scozzese quest'anno. Poi c'è da dire però che il Celtic viene dalla sconfitta all'ultimo tuffo contro la Lazio in Champions League europea, si vorranno rifare, io direi 70% Celtic, 30% Kilmarnock. Abbiamo invece poi la partita più interessante della giornata che è quella fra St. Birrer e Rangers, sicuramente molto equilibrata. Kilmarnock, grande sorpresa di questo inizio di Scottish, molto rocciosi, squadra difensiva, molto abile nelle ripartenze, soprattutto con i propri laterali. I Rangers vengono dall'esonore di Michael Bale, insomma hanno fatto una brutta figura contro l'Aberdine in casa, direi 50 e 50. Ultima partita quella fra Aberdeen e St. Johnston che invece è la più squilibrata dell'intera giornata di Scottish, molto favorito l'Aberdine contro il St. Johnston, non stanno giocando un grande campionato quelli di St. St. Johnston, anche se hanno l'attenuante di avere molti titolari in infermeria, padroni di casa che vengono da vittoria contro l'Angers e vogliono continuare a scalare la classifica. Trasferiamoci subito a vedere che cosa succede invece per quanto riguarda i calciatori disponibili per la Cuppet. Quindi iniziamo con i portieri, abbiamo il primo è Lyman Kelly, il portiere del Motherwell, first pick per noi, gioca contro Livingston che ha segnato solo 6 gol fin qui, insomma buon portiere che non può che migliorare. Abbiamo visto che ha un L15 pari a 50, un L5 a 48, il suo prezzo lo andiamo a vedere. Eccolo qua, ultima vendita a 13,88€, mentre l'ultima in limited, mentre l'ultima vendita in rara è a 329€. Secondo portiere è proprio il Trevor Carson di cui abbiamo parlato prima che ha fatto una partita clamorosa nel precedente turno. Portiere classico da Cuppet, volendo anche da Cuppet a 220, visto che ha un L15 pari a 44, l'abbiamo già parlato spesso, insomma, su questo canale YouTube. Questo fine settimana gioca contro Roscounty, anche Roscounty solo 6 gol in campionato e quindi Carson potrebbe anche fare Clishit. È una soluzione low cost molto valida, perché vediamo, insomma, è vero all'età che ha, ma costa in limite 9,36€ e anche in rara è difficile trovare un portiere titolare in Europa a questa cifra. Sta a 259, l'ultima vendita. Terzo portiere che vi consigliamo, vi ricordo che tutti i consigli della Scott ci sono fatti in collaborazione con il grandissimo Marek. Ecco qua, Ross Laidlow del Ross County. Anche lui torna come proposta per la Cuppet, è un portiere che può essere capace di regalare soddisfazioni, ma anche in cazzature epiche. Insomma, costa il giusto, gioca contro il Dandy, che è un attacco che non è proprio stellare nemmeno questo. Ha un L15 a 42, va bene quindi per la Cuppet a che lui alle 5.47, ultima vendita in limite da 12,70€, mentre in rara va a 380€. Passiamo quindi ai difensori. Iniziamo con Stefan Ganterman dell'Aberdyn, lo vedete, difensore molto interessante, forse un po' in hype perché ha segnato la settimana scorsa, ma insomma gioca anche le coppe a valore delle 15. Molto molto buono perché è a 47, come vediamo, eccolo qua. ha un L554, quindi appunto valori in crescita. Secondo me è una delle migliori occasioni che potete trovare in assoluto sul sorare. Andiamo a vedere l'ultima vendita, l'ultima vendita a 4,76€ in limited, mentre la rara, l'ultima vendita a 47,44€. Tenetelo d'occhio perché veramente è pazzesco, secondo me, trovare un difensore di questo tipo a questa cifra. Passiamo a Dan Casey del Motherwell. Anche lui è L550, quindi il leggerissimo bellissima crescita rispetto al 49, DL15. Andiamo a vedere la limite, l'ultima asta a 1,41€, mentre la rara ultimamente tra stava a 25,20€. Giocano contro il Livingstone, il Motherwell l'abbiamo detto e ridetto, quindi è per quello che è molto molto interessante prenderci uno come Dan Casey, anche perché devono un po' rifarsi. Il Motherwell viene da tre sconfitte di fila, insomma è un po' di scontinuo, ma può regalare anche delle soddisfazioni. Ultimo difensore Scottish che vi proponiamo è Joe Shaughnessy, L15,45€, ma grande crescita perché è un L5 a 49. Andiamo a vederci il prezzo, abbiamo 0,63€ in limited, quindi veramente niente, e rara ultima vendita a 15,12€. È un classico difensore da soglia, se volete lo andiamo a vedere, eccolo qua, però insomma con discreti anche voti, secondo me, può regalare delle soddisfazioni insperate. Passiamo ai centrocampisti. Iniziamo con Graimi Scigni dell'Aberdine, classico giocatore interessante per la 2,40€, gioca sempre, gioca anche le coppe, è un buon L15. L15 infatti è di 52, L5 leggermente in calo con 50, ma che l'Aberdine è partito un po' così, ma si sta riprendendo. Giocano contro il St. Johnston e dovrebbero vincere facile. Questa è veramente un'ultima pick. Guardate anche i suoi voti, vedete, tende a fare un po' su e giù, ma se acquista continuità è molto interessante, anche perché il prezzo, lo andiamo a vedere, ultima vendita 1,56€ in limited, mentre in rara, ultima vendita a 18,57€. Niente, niente male. Passiamo poi a Calum Slattery, di nuovo una proposta dal Motherwell. Sappiamo ormai che gioca contro il Livistro, quindi una pick a centrocampo nel loro 11 iniziale ci sta tutta. Slattery è un discreto centrocampista che può anche imbroccare una striccia di ottime prestazioni. L15 a 49, L5, 54, quindi in crescita anche lui come prestazioni. Vedete, ultima asta è andata a 2,35€, mentre in limite, ovviamente, mentre in rara, ultima presa a 65,75€. Vedete, sta crescendo molto, lo vediamo dalla curva, anche perché, eccolo qua, fa discreti voti. Questo è veramente un nome che io vi consiglio di segnarvi. Ultimissimo, Luke McCowan, dal Dundee, gioca lì, insomma, spesso si dimentica di giocare lì perché fa delle ottime prestazioni. È un'alle 15,46€ e un'alle 5,54€. Altro giocatore in grande crescita di prestazioni. e lo andiamo a vedere, il prezzo prima, ultima vendita a 2,90€ in limite, mentre in rara ultima vendita a 30,39€, ma vediamo i suoi, eccoli qui, voti di quest'anno, veramente molto, molto, molto interessante. Che ci rimane da guardare? Gli attaccanti. Eccoli qui per voi. Iniziamo con una doppia proposta, quella di Luis Duclopes e di Bojan Miofsky Miofsky dell'Aberdin. Luis Duclopes, ne ho parlato già in un precedente video, quello introduttivo sulla Scottish di qualche settimana fa, lo vediamo, eccolo qua, l'anno scorso ha fatto un campionato incredibile, quest'anno è partito un po' così. Ha un prezzo interessantissimo in limite che è di 6,39€ e anche la rara sta ovviamente, ribassando tantissimo, sta a 101€. Io ci darei veramente un'occhiata, perché il capo verdiano è impossibile che continui ad andare così male, vedete L5, 41, L15, 42, deve per forza riprendersi, altrimenti può essere sempre buono. Bojan Miofsky, l'attaccante della Macedonia del Nord, che gioca sempre nell'Aberdin, anche lui non sta andando proprio benissimo, lo vedete, è alle 5,44€, quindi è partito molto male e sta abbassando anche le 15,47€. Però questo presuppone il fatto che è a 9,67€ in limite di prezzo, mentre il rara ultimasta ha 99,10€, che se comprate uno o entrambi questi giocatori, poi vi tornerà indietro questo investimento, perché comunque sono giocatori di assoluta qualità. Ricordo anche appunto che l'Aberdin gioca contro il St. Johnstone, quindi insomma le due cose potrebbero andare molto bene. Terza proposta è quella del Super Bomber, che non è partito bene, quindi per ora stiamo guardando giocatori che non sono partiti benissimo quest'anno, ed è Lawrence Shankland. 36, infatti, di L5, malissimo, L15 rimane sempre leggermente alto a 51, vedete i prezzi? 6,24€ in limite di in clamorosa caduta, mentre la rara anche questa è in clamorosa caduta, addirittura l'ultima asta a 82,65€. Ricordo che l'anno scorso ha fatto 24 gole e dato un grande numero di assist, quindi non può essere questo qui, insomma, se l'avete mettetelo, compratelo, prima o poi tornerà a segnare, insomma. C'è da dire che se andiamo a vedere contro chi giocherà, giocherà contro l'Ibs, quindi nel derby, poi il Celtic. I Rangers non sono un granché quest'anno, da qui in poi potrebbe essere molto interessante, quindi dopo il Celtic probabilmente potrebbe essere una pick quasi quasi certa. Ultima proposta, low cost, è quella di Jordan White, L5,34, quindi veramente molto male, L15,44, nemmeno bene questa, però insomma, se non avete tanto budget, costa 0,94€ in limited e costa 38,19€ in rara, ragazzi, gioca nel Ross County, la prossima ce l'ha contro il Dandy, se non avete tanti soldi, questa è una scelta low cost che noi vi proponiamo proprio per questo. Passiamo ora ai saluti finali. Il video è giunto alla sua conclusione, spero che vi sia piaciuto, ricordatevi di lasciare un mi piace se vi è piaciuto e qualche commento con richieste anche su cacciatori specifici, insomma, sia di Kyrig che di Scottish, vi risponderemo prontamente, perché ricordo che il video è fatto con l'aiuto dello straordinario Marek per quanto riguarda la Scottish, ricordatevi la campanellina così sarete avvertiti dei prossimi video che usciranno sul canale, se non siete inscritti a storare qui sotto trovate il mio referral link, dopo aver acquistato 5 carte in asta ne avrete una gratuita. Che dire, alla prossima, ciao!